Fabio Ruga, seconda posizione alla Sky Race Alta Valtellina in Val Viola, alle spalle di un certo Marco De Gasperi. Un'ottima gara per te, le tue impressioni? Le impressioni sono buone, sono partito deciso oggi. Ero contento di tenere inizialmente anche il passo di Marco, quindi stare dietro Marco era già una bella soddisfazione. Poi nella discesa Marco è indiettamente più forte, è un fenomeno in discesa. Ho provato a tenerlo, poi pian pianino si è creato un piccolo gap che è andato aumentando verso il finale della gara. Poi Marco è molto bravo, io provavo a tenerlo e sono già contento così comunque oggi. La stagione prosegue, quali sono i tuoi obiettivi immediati? La stagione prosegue, l'obiettivo immediato, diciamo che sarà la seconda prova del campionato italiano, che comunque sarà i primi di agosto, e lì proveremo un po' a migliorare la condizione fisica per cercare una maglia per il mondiale, se ce la facciamo. Grazie Fabio.